Nel 2024 voglio assolutamente ottenere dei risultati che non ho mai ottenuto prima per avere uno switch totale della mia persona. Questi obiettivi in parte riguardano anche voi, poi nel corso di questo video capirete al meglio. Prima di iniziare però voglio fare una piccola premessa. Sia con i miei clienti dei percorsi di crescita e di produttività personale sana, sia proprio come persona, voglio assolutamente che i miei obiettivi vadano ad essere bilanciati e che la mia vita sia di conseguenza bilanciata. Sia per l'appunto la mia che quella dei miei clienti. Quindi il concetto chiave è crescita personale sana più produttività personale sana uguale ai risultati concreti, costanti e duraturi. Perciò mi sono posto obiettivi che riguardano sette sfere della vita che per l'appunto la vita la vanno a rendere il più bilanciata possibile. E queste sono la sfera della crescita personale, quella lavorativa, quella economica, quella della salute, quella familiare, quella delle avventure e quella sociale. Spostiamoci quindi ora su Notion dove ho inserito tutti quanti i miei obiettivi per questo 2024. Prima di farlo però ti esorto a lasciare un bel mi piace a questo contenuto con l'obiettivo come al solito dei 150 like. Quindi mi raccomando anche il tuo mi piace è fondamentale. Eccoci qui Growers, siamo su Notion, siamo nella page dedicata agli obiettivi di questo 2024. Iniziamo sin da subito con quello che riguarda la crescita personale. La sezione infatti che riguarda il mio automiglioramento prevede tre obiettivi. Il primo è quello assolutamente di laurearmi. Sono a tre esami in questo momento che state vedendo questo video. Dalla laurea in lingue, lingua traduzione cinese e lingua traduzione spagnola come L2 ed L1. E voglio assolutamente laurearmi nel 2024. Un obiettivo che lo scorso anno ha fallito però quest'anno voglio assolutamente riuscirci. Obiettivo numero due è quello di completare anche il master di Start to Impact che ancora devo praticamente iniziare che riguarda il mondo del digital marketing. Tra l'altro se questi argomenti ti appassionano proprio quelli del digital marketing ti ricordo che ho creato un canale ad hoc dove vado a condividere strategie, obiettivi, pianificazione, intelligenza artificiale eccetera proprio per quel che riguarda il mondo del digital marketing e per il momento soprattutto quello della creazione di contenuti. Punto numero tre, leggere 40 libri. Un obiettivo che l'anno scorso ho fallito leggendo veramente molto meno di quanto mi aspettassi, quest'anno voglio recuperare con almeno 40 libri. Sfera lavorativa riguarda la parte di YouTube, il coaching e il mindset. Iniziamo da YouTube. Qui abbiamo degli obiettivi che ho diviso in intrinseci ed estrinseci. La I appunto rappresenta i primi, la E i secondi. E che cosa significa? Significa che gli obiettivi intrinseci sono quelli che dipendono direttamente da noi, quindi dalle nostre azioni. Gli obiettivi estrinseci possono essere anche visti come risultati che però essendo tali magari non dipendono direttamente da noi. Ma adesso ti spiego meglio ovviamente. Comunque se non hai ancora visto il video in cui ti parlo nel dettaglio di come stilare al meglio una lista di obiettivi, sappi che trovi il video sul mio canale YouTube in questo momento in sovraimpressione e ti permette di partire al meglio con il 2024. Ora, primo obiettivo intrinseco è quello di realizzare ben 52 video per il mio canale di crescita e produttività personale, quindi all'incirca un video a settimana nel corso del 2024. Obiettivo numero 2. Sviluppare una community ancora più forte. Infatti sia su YouTube che su Instagram voglio proprio legare molto ma molto di più con voi in modo tale che proprio possiamo avere una community super super forte e non vedo l'ora di dare il massimo per raggiungere questo obiettivo. Punto numero 3. Strinseco. 10.000 iscritti e 10.000 follower. 10.000 iscritti su YouTube e 10.000 follower su Instagram. Quindi se ancora non mi segui anche sull'altro social ti suggerisco di farlo perché lì quotidianamente abbiamo modo proprio di interfacciarci e c'è molta, proprio anche per quel che riguarda il punto numero 2 della parte lavorativa, c'è modo di raggiungere l'obiettivo di creare una community molto più, diciamo, legata, ecco. Punto numero 4. 15.000 euro di fatturato. Quindi fare parecchio di più rispetto allo scorso anno è quasi un 2x e voglio appunto raggiungere questo risultato, poi spiego meglio anche come voglio farlo, ovvero con il mio canale YouTube, con il servizio di coaching, ma poi appunto ci arriviamo. Quindi anche questo può essere visto sia in modo, diciamo, intrinseco che strinseco. Punto numero 5. Effettuare 10 collaborazioni. Quindi collaborare con altri creator di crescita e produttività personale, con altri coach per dare anche nuovi contenuti, nuovi spunti interessanti come l'ultima collaborazione che ho effettuato è stata la live con Luca. Luca Sadurni, l'autore di Incarescita, un libro meraviglioso che vi consiglio tantissimo e che appunto la live la trovate sul canale. Quindi quest'anno almeno 10 collaborazioni. E punto numero 6, sempre estrinseco, ma anche qui poteva essere sia una I che una I, che è quello di monetizzare il mio canale YouTube di crescita e produttività personale. Per farlo servono i 1000 iscritti, che abbiamo raggiunto e superato da quasi un anno, ma anche superare le 4000 ore di visualizzazione. Al momento io sono a 2200, quindi a più della metà. Conto di riuscirci entro qualche mese e poi dare il via appunto alla monetizzazione di YouTube. Passiamo poi al coaching, quindi abbiamo un obiettivo estrinseco che è quello di raggiungere i 30 clienti aiutati e l'obiettivo intrinseco, un mindset ulteriore sulla produttività sana. Sto infatti studiando molto per rendere i miei servizi di coaching ancora di più proprio sani a livello di produttività, dare il massimo per dare il miglior servizio e quindi anche ovviamente parlare sempre di più di produttività sana, che ce n'è veramente molto molto bisogno e avere quindi il focus su tutte queste sette sfere della vita che sono fondamentali. Se non siamo bilanciati nel lungo periodo, ci sa che nel breve periodo non lo siamo, ma nel lungo periodo dobbiamo assolutamente esserlo. E poi c'è appunto un obiettivo che riguarda il mindset, che è quello di entrare in Monk Mode una settimana al mese, che anche questo possiamo mettere, ma mettiamo intrinseco più che altro. Entrare in Monk Mode una settimana al mese significa che per ogni mese io per una settimana magari stacco dai social, che è una cosa che l'anno scorso mi è mancata parecchio, e mi dedico in particolar modo agli input, alle abitudini potenzianti, e stacco completamente da quelli che sono per la maggior parte gli output. È per questo che mi sto dedicando proprio alla creazione di tanti contenuti nel mese di gennaio, già magari dai primi giorni, per poi avere video pronti per diverso tempo, e poter entrare quindi in Monk Mode senza sentirmi troppo in colpa come succedeva lo scorso anno. Che in Monk Mode poi tra l'altro ci sono entrato veramente troppo troppo poco. E sviluppare un mindset imprenditoriale come punto intrinseco, sviluppare un mindset imprenditoriale, cioè dedicarmi molto di più alla mia attività, al capire come generare più guadagni per poi poterli reinvestire sia nella mia vita privata che ovviamente proprio per il canale YouTube e portarvi sempre contenuti migliori, servizi migliori, eccetera, eccetera. Quindi l'obiettivo è quello di guadagnare abbastanza sia da poter vivere di questo, sia anche per poter reinvestire e darvi sempre, diciamo, contenuti appunto migliori, servizi migliori, e scalare quella che è la mia attività. Per farlo serve sviluppare un mindset imprenditoriale. Quindi quest'anno è per questo che voglio che ci sia questo switch, proprio perché voglio migliorare da questo punto di vista che è fondamentale quando si ha un'attività improprio come la mia. Parte economica. Vediamo i risparmi che saranno, almeno c'è l'obiettivo, quello di raggiungere 5.000 euro di risparmi e investimenti 3.000 euro. Ovviamente voi direte, ma hai detto che vuoi fatturare 15.000 e mettervi 8.000, con 7.000 che ci fai? Assolutamente nulla. Infatti quelli sono i guadagni che vorrei, in qualche modo, venissero poi generati dal canale YouTube e in più c'è anche la parte di coaching, quindi l'obiettivo finale del fatturato, magari se riuscissi, sarebbe quello di un 25-30k. Ma essendo, diciamo, il primo anno in cui vado a sviluppare il mio mindset imprenditoriale, qualora non dovesse riuscirci completamente, andrebbe bene lo stesso, nonostante ovviamente darò il massimo assolutamente per raggiungere questi risultati e capire al meglio come poterlo fare, proprio perché l'obiettivo è grande, è molto grande e sviluppare un mindset imprenditoriale significa migliorare anche questo aspetto qui. Dopodiché, aspetto fondamentale ovviamente anche è quello della salute, che ho diviso in allenamento e meditazione. Allenarmi praticamente due volte a settimana, 104 volte e 104 volte, sia allenamento che meditazione. fondamentale, soprattutto quando entrerò in mock mode, la meditazione sarà parte fondamentale di quella settimana lì. E non vedo l'ora di portarvi magari un contenuto in cui vi parlo al meglio del mio mock mode, ovviamente senza mostrarvi più di tanto, perché utilizzerò pochissimo il cellulare, proprio per evitare di stare sui social, oppure di comunque utilizzarlo e avere troppe distrazioni. E poi quest'anno voglio molto puntare anche su un aspetto molto, molto per me importante, che è quello della curiosità. Cioè voglio essere molto più curioso e cercare di tornare un pochino bambino. Al momento sto infatti leggendo il libro eccezionale di Ali Abdaal, che è veramente, veramente eccezionale, mi sta piacendo tantissimo, e lui dice proprio questo. Cioè che bisogna essere più curiosi, curiosi di avventure, un po' come quando si era per l'appunto bambini, che si faceva un'azione solo per il piacere di farla, non tanto per il risultato. Quindi quest'anno voglio puntare molto anche sotto questo aspetto e raggiungere i risultati che non ho mai ottenuto prima. Per farlo, quindi, mi sono posto l'obiettivo di effettuare 4 viaggi all'estero per un totale di 15 posti nuovi visti, cioè praticamente 4 viaggi all'estero e vedere 4 cose che non ho mai visto, almeno per viaggio, oppure 4 viaggi all'estero e vedere anche qualcosa in Italia, posti dove non sono mai stato, proprio per arrivare a 15 nuovi posti visti. Personali, voglio andare a vivere con la mia ragazza, stiamo insieme da quasi 6 anni e voglio appunto arrivare a guadagnare abbastanza da poter ci permettere, insomma, di andare a vivere insieme, dato che è un sogno che condividiamo entrambi e che vogliamo assolutamente raggiungere nel corso di questo 2021. Sociali e familiari, passare più tempo con le persone a meccare, questo perché lo scorso anno sono stato abbastanza soddisfatto, soprattutto dell'ultima parte dell'anno che ho passato con le persone a meccare, in alcuni frangenti però magari è stato un pochino più complesso, quindi voglio essere più costante con questo obiettivo qua. Questi sono gli obiettivi che mi sono posto per le 7 sfere della vita da raggiungere entro il 31 dicembre del 2024, se volete poi andiamo ad approfondire in maniera più dettagliata e se ancora non sapete come creare una lista di obiettivi che siano tali e quindi non buoni propositi da abbandonare dopo 5 minuti dall'averli iscritti, trovate qui la guida completa su come redigere al meglio una lista di obiettivi e come soprattutto raggiungerli. Grazie mille per la visione, vi auguro nuovamente un buon 2024 e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo contenuto qui su questo canale di crescita e di produttività personale. Grazie mille per la visione e a presto. Grazie mille.